Arriviamo a 1000 like e nel prossimo video su Mobox facciamo un chest opening da 1000 euro A te non costa nulla quindi schiaccia quel like Ciao querido amico, benvenuto in questo nuovo video Come hai ben capito oggi parliamo di Mobox, un progetto che mi sta interessando moltissimo Metto subito le mani avanti, non si tratta di un video sponsorizzato ma di un progetto in cui credo e che mi piace molto per il prossimo futuro Oggi ti voglio far conoscere un metodo di guadagno passivo che sto utilizzando grazie a questo play to earn Utilizzando poche parole chiavi, play to earn, metaverso, NFT, questo è Mobox La piattaforma Mobox è un ecosistema GameFi lanciato da Binance su Binance Smart Chain Il token di Mobox è principalmente la valuta di gioco, infatti ti permette di facilitare gli acquisti in gioco per potenziare personaggi, guadagnare di più e molto altro I fondatori sono Vladimir Kot e Benjamin Kern che sono nel mondo delle Dapp applicazioni decentralizzate dal 2018 e hanno già gestito oltre 4 miliardi di dollari A livello di token il prezzo attuale è 2 dollari e quindi è crollato molto rispetto ai suoi massimi che hanno superato i 10 dollari raggiungendo un picco di quasi 20 dollari per token Io infatti in questo momento sto farmando passivamente token giorno dopo giorno e non li voglio vendere assolutamente adesso a 2 dollari Ma nella prossima bull run in cui mi aspetto una bella crescita quindi oltre ai 10 dollari probabilmente rivenderò una parte o tutti i token Quindi mi aspetto una crescita del genere in futuro perché è un progetto in cui credo Mobox non esiste neanche da molto perché è stato lanciato ad aprile 2021 proprio da Binance con Launchpad La fornitura totale di token è un miliardo e al momento capitalizza veramente poco 176 milioni quindi se dovesse capitalizzare con il prezzo attuale tutti i token che usciranno Beh sono circa 2 miliardi di supply e guardando il gioco play to earn attuale più utilizzato che è X Infinity Beh a livello di capitalizzazione ci staremmo dentro tranquillamente Personalmente però piacendomi il trend del metaverso e aspettandomi una grande crescita nel prossimo futuro Mi aspetto di vedere il token salire ancora molto Entriamo sicuramente nella piattaforma e andiamo a scoprire al meglio come operare Questa è la piattaforma, l'interfaccia di Mobox e ti lascio il link in descrizione se vuoi supportare il canale è un link per registrarti tranquillamente Come vedi esiste il tasto esplora il Momoverse e già in alto vediamo altri tasti come Momofarmer su cui ci concentriamo maggiormente oggi perché è quello che sto anche approfondendo La funzione dei games, i vari giochi che ci sono, il marketplace degli NFT, la governance, documenti e altro ancora Io inizierei subito andando a vedere Momofarmer Momofarmer ci apre questa bellissima interfaccia Sembra magari complicata per alcuni che la vedono per la prima volta però avendola studiata e approfondita ti vado a dire semplicemente cosa vediamo In alto la cosa principale che possiamo vedere quotidianamente è il prezzo del token Quindi al momento mi dice quanto costa un token Mobox 2 dollari e 16 la vediamo anche in basso a destra a sinistra 2 dollari e 16 un token Mobox Mentre sopra c'è anche la questione chest Oggi apriamo anche una cesta e quindi rimani fino alla fine per vedere che cosa troviamo Magari ci esce un epico che non sarebbe affatto male e ti ricordo i mille like per vedere anche il chest opening da 1000 euro su Mobox Bene tornando a noi questa è la pagina principale e abbiamo anche la questione di staking per mettere varie pool Quindi andando a vedere quello che c'è al momento e anche quelle che ci sono finite Al momento abbiamo la pool Mobox BNB quindi noi possiamo mettere fornire liquidità Quindi io metto dei Mobox e metto dei BNB e ricevo un interesse indietro sotto forma di API Tranquillamente mi posso collegare quindi con Metamask con Binance Chain o Binance Smart Chain Andando sotto cos'è che vediamo? Vediamo vari eventi tra virgolette che possono essere le varie box Che abbiamo la box normale, quella del Mac che serve poi per potenziare Abbiamo le gemme e anche l'asta dei leggendari Per esempio l'ultimo leggendario è stato venduto per 73.000 Mobox Che al prezzo attuale essendo 2 dollari sono 150.000 dollari Il leggendario fuori di testa direi Questi leggendari sono molto utili anche per la questione sia di mining magari sia di gioco Infatti dentro al gioco poi magari li vediamo o li possiamo vedere approfonditi sia uno per episodio Perché ho intenzione di fare vari video a tema Mobox soprattutto se vi piacciono Possiamo vedere tutti i giochi nel dettaglio E ogni gioco ha una particolarità e tu scalando la classifica poi vinci dei Mobox mensilmente o settimanalmente In base alla premiazione che c'è e non sono affatto pochi Cioè ci sono delle persone che arrivano nella top classifica e magari guadagnano 10.000 dollari al mese o anche di più Bene andando sotto cos'è che vediamo? Il mining camp Questi sono tutti i Mobox che ho io al momento e stanno farmando Infatti come ti dicevo ogni Momo ha una sua capacità di mining Poi la vediamo nella sezione My Momo E al momento io sto generando 5420 Ash Power Questa è la mia potenza e in verde vedi che c'è anche il boost Quindi 3800 è un boost e poi ti spiego come aumentare il boost Di conseguenza io con 1000 di Ash Power genero 6,37 Mobox al giorno Avendone 5400 sto generando 6x5 30 un po' più di 30 Mobox al giorno E al momento ho generato 335 Mobox da quando non ho fatto l'ultimo claim Comunque posso fare il claim tranquillamente con il mio metamask e mi prelevo sul mio wallet i Mobox token Infatti adesso ho fatto il claim mi arrivano sul mio wallet e poi posso farci quello che voglio Quindi poi li posso utilizzare per comprare altro Posso convertirli in altre criptovalute come boost magari una stablecoin in bitcoin o quello che voglio Io sto farmando questo token semplicemente avendo comprato degli NFT Ok qui vedi che c'è scritto transazione fatta Fatta ora mi dice che sto generando e ho generato 0,004 Mobox perché gli altri li ho appena prelevati sul mio wallet E come hai visto 300 circa Mobox per 2 che è il token Il prezzo del token sono circa 600 dollari generati nemmeno da molto tempo Io infatti con quello che sto facendo al momento dovrei generare più di 2000 dollari al mese Vado subito a prendere i miei calcoli che mi sono fatto perché veramente quando nerdavo pesantemente E cosa che sto facendo anche ora mi sono segnato tutto per andare a ottimizzare le strategie E te lo vado a spiegare anche per capire il calcolo che ci dà una famiglia, il boost e altre cose Semplicemente una famiglia completa che sarebbe completare Adesso lo vedi questa per esempio è una serie, una famiglia Vedi che sono tutti lo stesso tipo e c'è magari comune, non comune, raro, super raro E adesso vediamo nel dettaglio Quando hai una famiglia completa ti dà un boost di 300 hash E è sempre lì quindi io posso prendere una famiglia, avere il boost È come se ho un potenziamento, mi sta aiutando molto il boost E non posso però sommare le famiglie quindi io non posso fare la stessa famiglia più volte Devo fare sempre delle famiglie diverse Poi andiamo a vedere anche il costo delle varie famiglie per capire se ha senso o meno questa cosa Io personalmente in questo momento potrebbero essere cambiati un po' i dati perché adesso è scesa la ricompensa Con 5400 hash sto generando 32 mobbox al giorno Circa 60 dollari al giorno al prezzo attuale Però visto che personalmente mi interessa vendere mobbox sopra i 10 dollari Contando 32 mobbox è come se stessi generando 320 dollari al giorno Poi magari non ci tornerà mai il token a quel prezzo Quindi vedremo personalmente in questo momento esatto Sto generando più di 60 dollari al giorno Quindi al mese sono 2400 dollari Però ovviamente bisogna fare un investimento iniziale Io infatti ho comprato delle famiglie e degli epici Che adesso ti faccio vedere e ho investito un pochino perché ho 12 famiglie e 2 epici Come vedi qui sotto ci dice anche come avere altri boost Io personalmente tra parentesi mi dice ai 12 rari Infatti come ti dicevo ho 12 famiglie e ogni famiglia ha all'interno un raro Quindi una volta che raggiungo 10 rari ho un altro 4% di boost sul mio hash Quando arrivo a 15 rari quindi tra poco poi arrivo al 5% di boost e così via Quando hai 20 il 6% quindi su tutto l'hash power che ho ho anche un altro boost in percentuale Perché ti dico ok hai un numero tale di rari oppure in questo caso di epici Se hai 3 epici hai un 5% di boost Io al momento ho 2 epici quindi se ne compressi un altro avrei un extra 5% E così via vedo la stessa cosa con i leggendari Magari ho 2 leggendari che al momento costano molto Quindi i leggendari lasciamoli un po' a parte Dipende poi quanti soldi vuole investire una persona O quanto utilizza i giochi Perché quel farming è un conto Con il videogioco, con i giochi, i minigiochi è un altro conto ancora Perché tante persone utilizzano proprio i giochi Io al momento sto utilizzando semplicemente il farming con gli NFT Quindi in maniera totalmente passiva non devo fare nulla Con i giochi invece devo stare a giocare in prima persona tutti i giorni A fare queste partitine o altro Poi vedremo in un altro video a profondità la questione dei giochi In questo video come ho già detto vediamo meglio la questione del farming Per il farming e basta a mio parere facendo anche un po' di calcoli Quello che conviene, vado nei miei momo per capirlo Quello che conviene è fare solo le famiglie senza gli epici Gli epici al momento li ho presi per una questione un po' di speculazione Perché rispetto ai mesi precedenti in cui era tutto un po' di hype Sono scesi molto i prezzi degli epici Infatti se andiamo in market qui sotto Quelli gialli vedi che sono gli epici Quelli viola vedi che sono i rari Andiamo in market e qui vediamo tutti i momo Io posso andare qui in alto e cliccare le varie categorie Mi dice qualità Io posso cliccare epico Questi gialli sono tutti gli epici Una cosa interessante è che ognuno ha un prezzo diverso L'ideale sarebbe prendere quelli arancioni rispetto a quelli viola Se ci interessa anche giocare a videogioco, al minigame Perché appunto hanno più forza, crescono maggiormente Se invece li vogliamo prendere semplicemente spot per farmare Ci può andare benissimo Per esempio questo che ha 1300 hash Abbiamo visto che con 1000 di hash facciamo 6 mobbox circa al giorno Un po' di più Quindi a 1300 quindi faremmo 7-8 mobbox al giorno E al mese sono 250 mobbox al mese Appunto in dollari al momento 2x240 250 sono 500 dollari al mese Avendo investito semplicemente meno di 8000 dollari per un singolo epico Poi ovviamente ci sono tantissimi diversi prezzi E questo che ha 1000 di hash è perché già è a livello 19 Se andiamo a vedere questo magari che a livello 1 ha 74 di hash Mi costa 3200 boost E io poi posso potenziare un personaggio per aumentare anche poi il suo hash Vediamo anche in questo video come potenziare un personaggio Personalmente se voglio comprare invece dei rari Clicco qui vado a vedere i rari E mi dice tutti i rari hanno un costo inferiore E a livello di hash è molto interessante perché completando una famiglia Come vedi qui hanno già un centinaio di hash E andiamo per esempio qui My Momo E vediamo che c'è collection Queste qui sono tutte le famiglie che possiamo completare Quando le completo io personalmente metto il lucchetto Così che evito anche di venderle perché so che non mi interessa Una volta che completo tutta la famiglia mi dà il boost Quindi io posso fare qui Posso direttamente cliccare anche il più E mi esce se è in vendita o meno E occhio a non farmi fregare perché i rari solitamente in questo periodo almeno Li sto pagando tutti sui 1500-2000 dollari Poi c'è la loro continuo della famiglia In questo caso 20-25 dollari Questo forse sempre 20-25 dollari E questo 45 dollari Poi alcuni magari costano 99 Alcuni 100 Dipende anche dalla rarità Infatti se vedi sopra una famiglia c'è il numero Qui per esempio le famiglie che hanno 600 sono meno rare Perché appunto ci sono 600 famiglie Ci sono 600 tipi di questo NFT Mentre quando ce ne sono 200 sono più rari Un'altra che volevo, che stavo osservando È questa per esempio Non dovrebbe esserci in vendita raro Infatti questa ce n'è solo 50 È interessante perché Perché quando tu hai una famiglia che è ancora più rara È ancora più scarsa E se una persona poi lo vuole Beh lo paga molto di più Perché appunto è un NFT scarso Non è raro Cioè non è comune come gli altri Qui immagina una famiglia che costa 600 Vedi costa 1.000, 1.500, 2.000 Ognuno poi mette il prezzo Però a 1.100 io per esempio mi faccio un raro 1.188 Più in questo caso 94 Più 24 Più 42 Con 1.300 1.300, 1.400 Ho fatto una famiglia E sto generando più di 300 Perché 300 è già il bonus E dipende poi quanto esce avevano Magari sto già generando una quantità tale Di token mobbox Da ripagarvi l'investimento anche in molto meno tempo Ed è una cosa ottimale Soprattutto se ci piace il progetto Io personalmente sto andando abbastanza pesante Su questo progetto Anche perché vedo che è beccato Tra virgolette da Binance Infatti Binance ha lanciato il progetto Con il suo launchpad E personalmente ci credo Altra cosa Se andiamo sempre sotto Vediamo anche quelli singoli Quelli singoli sono gli epici E gli epici hanno la loro particolarità Quindi ce ne sono quelli da 50 Ci sono quelli da 200 Da 150 E così via Quelli anche per quanto riguarda gli epici Più scarsi Quindi che si bloccano a 50 A mio parere è meglio Magari spendere anche qualcosina di più Per questi qui da 50 Che da quelli da 150 Perché quelli da 150 Sono più comuni E quindi sono un epico Tra virgolette Meno raro Perché è così C'è nel triplo rispetto ad altri Di conseguenza se vado sul market E voglio comprare degli epici Posso andare a vedere Per esempio lui dovrebbero essercene 150 Se non erro Magari flash ce ne sono 50 Magari l'angioletto ce ne sono 50 Vado a controllare sempre Questo dovrebbero essercene 150 Dico non lo pago 7000 boost Però personalmente sto andando Metto anche magari ogni tanto prezzo dal più basso E dico ok un epico a 3000 boost 3000 dollari Lo voglio comprare Perché penso che il progetto andrà bene in futuro Ci speculo E io per questo ho preso anche alcuni epici Perché appunto di base Indietro nel tempo Almeno fino a qualche mese fa Gli epici partivano da 5-6000 dollari Ed era il basso dell'epoca All'inizio magari un epico ti costava 10.000 dollari Quindi puoi dire ok Prendo un epico Inizio a farmare un po' con questo epico Posso anche giocare E ottenere più punti all'interno del gioco Però è una cosa di speculazione Quindi lo prendo oggi Lo voglio rivendere Tra x mesi o anni E aver fatto magari un per due E un per tre E non è male assolutamente Però se vogliamo solo farmare Non ci interessa la parte speculativa A mio parere Il meglio La cosa più ottimale E prendere delle famiglie Una strategia che ho individuato Per ottimizzare la questione famiglie E anche prendere delle famiglie Che hanno già il livello 10 Magari investo qualcosina di più Quindi se trovo un raro Che è il livello 10 Vediamo se esistono adesso sul mercato Possiamo andare di quality Quando mettiamo quality Ci fa vedere in ordine Quelli più qualitativi Andiamo a vedere se al momento Ce n'è qualcuno Magari non ancora Vediamo forse col prezzo più alto Ok per esempio Questo qui è livello 14 E' abbastanza caro Perché è 11.000 boost Io facendomi il calcolo La strategia ottimale Sarebbe prendere una famiglia Che è a livello 10 Quindi non è detto che la troviamo E quindi abbiamo un hash Di 600 Più un hash di 300 Perché il bonus è 300 con la famiglia Quindi in totale abbiamo circa 900 di hash E è praticamente come se abbiamo 1000 E spendendo meno di 4500 boost o dollari A mio parere è una strategia ottimale Altrimenti possiamo tranquillamente Spendere anche meno Quindi prendiamoci direttamente La famiglia più economica che c'è Questo raro 1088 Compriamo tutti i suoi tipi Quindi come facciamo Lo compriamo Andiamo in my momo collection E andiamo a vedere poi tutti gli altri tipi di lui Per esempio questo era il Quello con il coso lungo Con il naso lungo Lo cerchiamo Oppure ne cerchiamo un altro In questo caso Se adesso non lo trovo E poi possiamo prendere tutta la sfilza Di quelli suoi Ok Dovrebbe essere questo Quindi io clicco Vedo questo qui col naso Dico ok 1000 e 100 Lo posso aggiungere al carrello Così li compro tutti insieme E pago le fee una volta Anche se su bsc BNB Sono basse Però ok Aggiungo al carrello Aggiungo al carrello il suo Tra virgolette Meno comune Meno comune ancora E così via E poi faccio l'ordine Unico E ho tutta una famigliola Una volta con la famigliola Me lo trovo Nei miei Momo E andando per esempio Nella home Li vedo nel mining camp Vedo qui l'hash E ogni giorno Continuo a generare A farmare Mobox token È il momento di una chest Mi va di aprire una chest Posso fare sia la raffle Quindi partecipare Oppure comprarle qui sotto Qui sotto Cliccando il prezzo Mi dice Ok Cassa Compra E l'acquistiamo Però io dovrei averne alcune Quindi andiamo a vedere Di aprire quelli che ho già Ok Clicco mystery box Ne ho tre Quindi una Sblocchiamola Conferma Sblocco Firmiamo la transazione Dello sblocco Pagliamo la fee Che comunque è misera E chissà se ci va di culo Perché appunto Un access costa 90 dollari Le probabilità sono qui sotto 50% comune 35% non comune 12% unico 2,5% raro Per fare una famiglia Ci basta questo E poi 0,5% per l'epico L'epico non ci serve Per fare una famiglia Aspettiamo di vedere Qui Ok Vediamo Transazione completata Abbiamo una box Unlocked Potevo sbloccarle tutte e tre Tanto non dovevo aprirle Tutte e tre Però ne apriamo una Vediamo cosa ci esce Se fai la sculata Che prendi un epico Un raro Stai facendo 1000 dollari 3000 5000 dollari Quindi lo puoi rivendere A ottimi prezzi Se prendi un comune Non comune Unico Può essere che vai Tra virgolette In perdita Oppure in pari Perché tu stai spendendo In questo momento 90 dollari Per una cassa Apriamola E vediamo Cosa succede Unlocked Stake Noi possiamo comunque Anche comprare delle casse Tenerle chiuse E rivenderle Speculando Sull'aumento di prezzo Delle casse Sempre qualche mese fa Una chest Costava per esempio 200 dollari Quindi a comprarle adesso Magari ti stai pagando metà Vediamo che si muove Quindi vediamo Cosa abbiamo trovato E se sculo Comunque Mi gaso Non penso Perché la percentuale Vedi che è veramente minuscola Già per trovare un raro O un epico Vediamo se devo cliccare O si apre da sola Attendiamo Attendiamo con ansia Questo chest opening Mi sembra di essere Un gamer In questo momento Comunque fammi sapere Nei commenti intanto Attenzione Attenzione Poi vediamo Non comune Classico Sili Quindi ottimo Noi possiamo venderlo subito Sul mercato Magari ritornare Dell'investimento Oppure Usarlo Per potenziare Un personaggio Quindi andiamo a vedere Come potenziare Un personaggio In questo caso Cosa vogliamo potenziare Ipotizziamo Che vogliamo potenziare Un raro Quindi in questo caso Tutti questi qui che vedi Sono viola Sono rari Noi vogliamo aumentare Magari Questo qui che è già A livello 4 Quindi lo clicchiamo Per fare upgrade Ci chiede due Non comuni E due comuni E noi però In questo caso Ecco molto interessante Per potenziarli Ci chiede solo Quelli della sua stessa famiglia Quindi se vogliamo Non abbiamo ancora provato A potenziare Sopra il livello 4 Un personaggio In altri casi Invece possiamo Utilizzare tutto Quindi in questo caso Se voglio potenziare lui Mi devo comprare La sua stessa famiglia Altri personaggi La sua stessa famiglia Quindi se vediamo Dei prezzi bassi Per una famiglia Che ci interessa Livellare È interessante Accumulare Quindi per esempio Questo che è livello 1 Mi dice Metti due Non comuni a caso Vediamo se posso Tutti questi qui bloccati E perché ce li ho Nelle famiglie Quindi non posso In questo momento Utilizzare qualcuno Posso andare direttamente Però a comprare Altri per potenziare Vediamo se c'è qualcuno Che riesco a potenziare Ma non penso Però semplicemente In questo momento Non mi fa potenziare Perché ce li ho tutti Bloccati in famiglie Cliccando qui C'è il tasto più Per mettere qui sotto Uno da Uno da Tra virgolette Bruciare Per potenziare lui E lui potenziandolo Che cos'è che fa? Mi passa il suo hash Da 25 A 52 Di conseguenza Io minerò anche Più Mobox token Non mino più Con la sua potenza di 25 Ma con quella di 52 Poi abbiamo anche I mech Che servono a incantare Il personaggio E aumentargli di livello Ulteriore E vediamo che Di base Mi passa da 25 A 26 Quindi potenziandolo Poi qui Magari da 25 Non è più 52 Magari diventa 55 O qualcos'altro È ottimo questo Perché se vogliamo potenziare Di tanti livelli Un personaggio Ci aiuta Poi abbiamo anche La questione delle gemme Che è più che altro Una questione Di in game Quindi nei giochi Ci aiuta molto E per la questione Di farming È praticamente Tutto Qui sotto Vediamo forse anche I vari hash Di qualcosa E per la questione farming È molto così Molto semplice Mentre i giochi Abbiamo detto che li vediamo In un altro video Marketplace NFT L'abbiamo anche già visto Possiamo comprare Sia i Momo Sia Box Che altro Che gemme E anche prestare I Momo Quindi se io ho degli epic Li posso prestare E ottengo degli interessi Cioè appunto Me li pagano Questi qui per esempio Vedi che Me li stanno pagando Due dollari al giorno O trenta giorni Due dollari Mentre lì ha Due dollari al giorno Un dollaro al giorno E cose del genere E perché una persona Dovrebbe prestare Dei personaggi Perché è una persona Che utilizza i giochi Che vedremo in un altro video Perché ce ne sono vari Può utilizzare Dei personaggi più potenti Senza doverseli comprare Come abbiamo già visto A 5.000 dollari 3.000 dollari E altre cose Ma prendendone in prestito O io voglio guadagnare Magari ho un Momo Epico Che ho pagato 3.000 dollari Lo metto in affitto Per altre persone Che vogliono utilizzarlo Nel gioco Magari ne compro già Uno bello potenziato E poi lo metto a rendita Che mi genera Queste entrate passive Non posso però Utilizzare naturalmente I Momo Che prendo in prestito Per farmare Quindi li metto nel Mining Camp Non posso farlo Posso utilizzarli Solo nei giochi Per questo video è tutto Ti chiedo un bel mi piace Perché arrivando a 1.000 like Facciamo un chest opening Su Mobox Da 1.000 euro E speriamo in una botta Di fortuna In descrizione c'è il link Per ricevere fino a 250 dollari Bonus Con Blockfight Con Blockfight Min Inserio Grazie a tutti.